Dall'Iso del profeta di Zaini per la sua fiscale e il vigore della sua cosa la chiamano a Lui perché dice a te che tu distrai nel bene? La mia mia nascosta al Signore è il mio Dio che è nascurato alla mia non lo sai cosa, non la dà l'unità Dio è ferro, Signore, che ha creato il figlio della terra, e Dio si fa vita, e si sa, la sua indigenza è sfruttata, e Dio ha forza lo Stato, e modifica il cuore al nostro Stato. Anche giocino per fuori del discampamento, e Dio vici sapanti di Dio, ma con Nerani si stava da ora, ma come spera per il Signore e la Queri Stanfora, Mettono male nei luoghi, pòrca così fatta la nostra, cammina senza segnarsi, combina il vino di Dio. benedici Signora mamma benedici Signora mamma benedici Signora mamma e ci porta di contatto e di seguito. Benefici, Signore, amè. E se è il tuo cuore che è il tuo cuore, Signore, dentro alle mie sangue della malattia, non ci tratta, se è proprio il nostro contatto, e non ci impatta, se è proprio il nostro contatto. Benefici, Signore, amè. Alleluia, amè. Alleluia, amè.